Un incontro molto interessante, siamo stati in grado di affrontare e valorizzare il grande lavoro svolto da CONI e da CIP nei quattro incontri precedenti. Incontri dove si sono approfonditi e trattati temi che sono fondamentali sul genere, sull'inclusione, sul ruolo dello sport e proprio in questa occasione è stato colto in pieno il significato dell'evoluzione dello sport come valore e come potenzialità all'interno della nostra società. Un settore che è cambiato tantissimo e di cui noi forse non conosciamo le piene potenzialità neanche oggi. Però è fondamentale rimettere mano alla legge regionale, è fondamentale farlo con gli operatori, con tutti i professionisti che si sono avvicendati nel raccontare le loro esperienze e che possono portare a un fattore importante, il contributo pratico e che anche arricchisce il dibattito istituzionale e politico. Ora siamo davanti ad una fase dove mettendo mano a questa legge daremo non solo un senso pratico ma un senso culturale all'indirizzo che andremo a cogliere non sposando una visione ideologica ma cercando di interpretare i fenomeni che questa nostra società in continua evoluzione, molto veloce l'evoluzione a cui stiamo assistendo, che condiziona questa epoca, possa essere in grado di essere raccolta e interpretata anche dall'istituzione.